Allora, grande intreccio di verricelli per cacciare questa testa di cazzo di Michelangelo. Michelangelo! Michelangelo! Affaccia la testa al finestrino! Fai vedere chi sei! Caccia la testa fuori come uno stambecco, vai! Ecco, lui è la testa di cazzo che è rimasto impantanato. Lo stiamo tirando fuori con ben tre verricelli, con l'Outlander di Raul, l'Outlander di Massimiliano e infine chiude la fila il poderoso Outlander di Peppino con ben due verricelli. Vedremo se l'avranno vinta sul quad. Anzi, sulla jeep, scusate. Domani faremo un po' di assistenza ai verricelli. Non tirare! Vai, vai! Recuperiamo queste corde. Massimiliano blocca la frizione, Peppino è già caldo, in tiro. e la jeep sembra che comincia a uscire. Evviva! Massimiliano sta facendo un po' di danni. Vai, vai Michelangelo, vai! Fai vedere se sei uscito! Un po' di casino, ma la macchina finalmente è quasi uscita. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!